Salve a tutti, eccoci alla 46esima settimana della Ritur Pagan Challenge e per questa settimana la domanda è come parli ai non pagani del paganismo? Domanda non complicatissima, quindi non penso che sarò qui a perderci molto tempo diciamo in due parole che attualmente allo stato del mio percorso praticamente non parlo affatto con un pagani del paganismo questo perché tutte le mie discussioni, le mie polemiche, anche i miei scontri ormai me li sono già fatti, quindi non ho interesse a farne altri inoltre non penso che il proprio percorso spirituale sia una cosa da sbandierare e spiattellare a 4 a 20 so che può essere un controsenso visto che ne sto parlando su Youtube però io tendo a scindere Youtube e Internet dalla mia vita locale diciamo perché il mio contesto sociale in cui vivo insomma, la mia realtà quotidiana è ben diversa dal mondo di Internet io sono circondato da persone non pagane, amici, parenti, conoscenti con le quali bene o male quello che potevo affrontare l'ho affrontato insomma ho fatto tutte le mie discussioni da dove potevo e per altre cose in realtà non sono interessato a farlo quindi non ho questa esigenza di persona insomma di parlare del paganismo più di tanto all'inizio è diverso perché anni fa quando ero ai primi anni del percorso appunto c'era forse questa voglia di condividere, di aprirsi non per forse ridichiararsi perché ricordo all'inizio della challenge c'era il video sull'essere usciti dall'armadio delle scope no? e in quel video ricordo l'aver detto che non a tutti io ho detto di essere pagano ho fatto quantomeno capire però che non ero cristiano e che certe cose le avevo abbandonate e questo quando parlo con le persone comunque in qualche modo traspare anche se non dico espressamente di essere pagano perché non mi interessa in realtà darmi un'etichetta per forza e dire che sono pagano giusto per dirlo io penso che parlare del paganesimo almeno per quel che mi riguarda sia una cosa che deve venire fuori naturalmente quindi non è che io sto lì a dire che sono pagano magari per giustificare una mia opinione se si capisce si capisce, se non si capisce pazienza, non mi interessa affermarmi in quanto pagano e quindi per questo motivo e anche perché comunque come dicevo le mie discussioni le ho già fatte in passato ormai non ho proprio interesse a parlare del paganesimo con persone che non sono pagane se queste non sono interessate oppure se l'argomento non è pertinente alla discussione quindi non è qualcosa che io infilo in un discorso tanto per infilarla se la cosa viene fuori allora se ne parla tranquillamente però per quanto mi riguarda questo tende a non accadere quasi mai proprio perché sono circondato da persone non pagane e quindi certi argomenti se vengono fuori comunque si affrontano in un modo diverso senza tirar fuori la posizione religiosa perché qui è dato per scontato che tu sei cristiano oppure al massimo sei ateo agnostico ma qui il 99% delle persone neanche sa cosa è il paganesimo quindi mi sembra veramente superfluo stare a discutere con le persone che mi circondano di questo argomento perché non c'è proprio una vera e propria base su cui costruire questo discorso quindi sarebbe un po' sprecato e si finirebbe spesso poi anche nel litigare e nel fare discussioni che non portano a niente quindi non ne vedo proprio l'utilità è chiaro che invece se ho a che fare con qualcuno che è genuinamente interessato alla cosa magari è curioso oppure ha qualche interesse insomma per religioni diverse dal monoteismo allora ci si parla volentieri e in quel caso come ci parlo? semplicemente io cerco sempre di spiegare che il paganissimo non è una religione perché non puoi semplicemente dire sono pagano e far capire all'altra persona tutto quello che è il tuo percorso dire sono pagano è l'inizio però il paganesimo è un contenitore di religioni perché appunto sono tante e diverse fra loro le correnti pagane come fai a dire a una persona sono pagano e finirlo da lì? è impossibile significherebbe che tutti i pagani sono uguali e questo sappiamo che non è assolutamente vero quindi la prima cosa che io faccio è appunto spiegare che si è pagani però poi bisogna vedere quale corrente, quale tradizione se c'è una tradizione oppure se si è eclettici e quindi far capire un pochino che questo mondo in realtà è molto più complesso di quello che può sembrare da fuori quindi devo spiegare magari ogni volta cosa è la wicca cosa non è la wicca le differenze col satanismo perché è tutta un'altra cosa cercare di scendere un po' la cosa dal movimento new age anche se ha contribuito parecchio a creare il paganesimo contemporaneo quindi è un discorso che non sempre si ha neanche il tempo e la pazienza di fare con una persona che magari è a digiuno di questi argomenti perché ci vuole tempo ci vuole tanto tempo, tanta pazienza e lo sappiamo, no? perché quando noi eravamo agli inizi non è che in mezz'oretta abbiamo liquidato l'argomento stiamo ancora qui oggi a cercare di capire le varie correnti tradizioni cos'è il paganesimo, com'è il nostro percorso e più si va avanti meno si capisce in realtà perché ogni volta c'è sempre qualcosa di nuovo quindi parlarne con uno sconosciuto è un'impresa veramente e non sempre si ha la forza, il tempo, la pazienza di farlo quindi anche per questo motivo diciamo che ormai io veramente una volta su cento cerco di parlare del paganismo a qualcuno che è completamente fuori da questo mondo ma deve essere proprio un'eccezione perché altrimenti già so che o ci vorrà troppo tempo e quindi il discorso poi rimarrà in sospeso e poi l'altra persona non sempre poi ha la pazienza di mettersi da sì a scrivere tutte queste cose quindi per approfondire bisognerebbe veramente darsi degli appuntamenti regolari e non sempre si può fare questo oppure nel peggiore dei casi poi ti rendi conto che ha a che fare con una persona chiusa mentalmente che magari ti fa magari anche parlare un'ora e poi cercare di smontare tutto quello che hai detto e capisci che è solo questo tempo a quel punto perché non era un interesse genuino il suo quindi per tutte queste ragioni in realtà al punto in cui mi trovo oggi io non è che non ho interessi non ho interesse ma nemmeno più forse la pazienza di parlare del paganismo con le persone che non sono pagane se ho a che fare con una persona pagana invece potremmo andare avanti giorni e giorni e giorni a parlare perché appunto l'interesse è reciproco ma quando non è reciproco allora per quanto mi riguarda veramente spesso è tempo perso e non ne vale più la pena onestamente dopo anni e anni di percorso penso che le priorità siano altre quindi sicuramente avere a che fare con i non pagani per me non è una cosa integrante nel mio percorso mi piace in qualche modo integrare me stesso con gli altri perché sarebbe assurdo essere pagano e lasciar perdere tutto il resto del mondo perché non è come te però è chiaro che non mi interessa far conoscere il paganismo agli altri così tanto per fare se gli altri sono interessati ben venga ma se io devo stare lì a parlare agli altri far capire tutte le mille sfumature del paganismo quando poi io stesso in realtà non è che sia un maestro in questa cosa è chiaro che non è una cosa alla quale posso dedicare troppo tempo ed energie e quindi in sostanza non mi interessa perché purtroppo visto che spesso non è una cosa che mi ha arricchito e non ha arricchito nemmeno gli altri perché forse non erano interessati oppure perché io non ero pronto non ero abbastanza non convincente però non ero abbastanza forse preparato e quindi la cosa poi si è risolta sempre in un niente e la mia esperienza questa è stata quindi non ho particolare interesse a parlare con i non pagani del paganismo di qualsiasi altro argomento poi si parla volentieri a seconda del caso della persona però di questo argomento qui ho parlato ai miei tempi e quindi non mi interessa più approfondire più di tanto quindi per questa domanda credo che sia tutto adesso per non rendere questo video eterno lo voglio chiudere qua e se ho tempo ne registro qualcun altro così come al solito mi porto avanti con la challenge e riesco in qualche modo a essere regolare e pubblicare i vari video quindi adesso è tutto e vi lascio video appuntamento al prossimo video ciao